Oggi c'è RadioRomaLibera.org, la prima emittente di podcast cattolici in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org Comprendere la grandezza della missione e della santità di San Giuseppe non è semplice, attingendo ai pochi riferimenti presenti nei Vangeli. Di lui vi è detto che fu un uomo giusto e santo, ma lo fu proprio in forze del suo essere padre putativo di Gesù, ciò per cui anche noi ci affidiamo alla sua protezione, seguendo l'esempio di tanti santi come San Gregorio Nazianzeno o Santa Teresa Davila. Questo testo rappresenta un ottimo sussidio in quest'anno speciale, indetto da Papa Francesco in onore di San Giuseppe nel centocinquantesimo anniversario della sua proclamazione a padrono universale della Chiesa, fatta da Pio IX. L'autore del libro, Don Marcello Stanzione, è noto per la mole di testi pubblicati da lui dedicati agli angeli, oltre trecento per una trentina di case editrici europee ed americane, tradotti in polacco, tedesco, sloveno, portoghese, francese, spagnolo ed inglese. Ma già in un'altra opera, pure uscita quest'anno, i carmelitani e la devozione a San Giuseppe, si è occupato dello sposo di Maria, proposto come modello e come esempio. Per l'ordine carmelitano, infatti, l'interesse verso San Giuseppe è rappresentato e rappresenta uno sviluppo della fondamentale ispirazione mariana e dunque della propria spiritualità. Don Stanzione, parroco nella provincia di Salerno, ha rifondato l'Associazione Milizia di San Michele Arcangelo per la retta diffusione della devozione cattolica verso i Santi Angeli. Oggi c'è RadioRomalibera.org, la prima emittente di podcast 14 in Italia. Per saperne di più è possibile visitare il sito www.radioromalibera.org. www.radioromalibera.org.